Mi chiamo Annalisa Donardi e vengo dall'Italia, dalla Toscana, più precisamente dalla provincia di Firenze, un paese chiamato Rignano sull'Arno. Ho 55 anni e sono un'insegnante, per cui il mio lavoro impone avere un aspetto gradevole per le persone che hai di fronte e io non riuscivo più a vedermi, a riconoscermi. Avevo difficoltà a sorridere, cercavo sempre di coprire il volto con la mano, le labbra con la mano, proprio per non far vedere la bocca. Purtroppo questa bocca è stata rovinata da tanti medici. Purtroppo lo devo dire, io ho iniziato ad avere problemi di carie, avevo dieci anni e mi sono imbattuta un giorno in una pagina del dottor Palmas e quando mi ha messo questi denti io sto scoppiata a piangere. Perché? Mi sono riconosciuta di nuovo, sono contentissima, sono proprio soddisfatta. Mi è stata una bella esperienza. Non lo so, ho deciso proprio di prendere coraggio. Poi sono arrivata qui, il coraggio mi è venuto a mancare ma sono stata come supportata, sorretta. Per cui io devo dire che se una struttura mi ha rassicurato e mi ha tranquillizzato è stata qua. Io buona parte della mia forza l'ho trovata qua dentro. Grazie alle persone che lavorano qua, che si dedicano a noi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.